Ciao Dino, completiamo anche su richieste di aver confabulato con la dottoressa, completiamo qualcosa già detto ieri riguardo a certi aspetti un pochino più tecnici se vogliamo o che dovrebbero essere specifici del clinico psicologo, cosa che è assolutamente falsa perché nessuno o un pochissimo dei miei colleghi approfondisce bene questo tipo di aspetti. Molto brevemente è possibile registrare come ho detto ieri alcune variabili fisiologiche che rappresentano un dato importantissimo per chi fa il mestiere del clinico psicologo, non interessa a tutti però è importante saperlo. E' importante perché è un supporto oggettivo, in gergo si dice molecolare, però tante piccole tessere compongono un mosaico ed è esattamente quello che il buon clinico, in primi sul medico ma anche gli altri sanitari dovrebbero fare in quello che già ieri abbiamo discusso nella diagnosi tipo funzionale. Quindi brevemente vi sono queste possibilità, la psicofisiologia è diventata psicofisiologia clinica appunto nel tempo, negli anni e in questi decenni, gli studi sono stati molto diffusi a livello mondiale e sono avanzati, nel senso che ormai la psicofisiologia, la neurofisiologia e il neuroimaging si fondono in una corona per capire il funzionamento del cervello, da un punto di vista anatomico e fisiologico ma anche da un punto di vista di produzione, produzione vuol dire comportamenti, sia interni, quindi pensieri, emozioni, che esterni, motori, verbali eccetera eccetera. Allora, come funziona un attrezzo che voglia registrare una funzione fisiologica? In quel modo lì, brevissimamente vi è un elettrodo o un trasduttore, la differenza questo per gli addetti a lavori è semplicemente questa, l'elettrodo come dice il nome sfrutta l'elettricità, quindi per esempio per quanto riguarda la conduttanza cutanea c'è bisogno di un elettrodo perché viene immessa una corrente continua a basso amperaggio e voltaggio in una mano per registrare quanta di questa corrente passa, mettiamo da un dito all'altro. Chiaramente il soggetto non sente niente, è un polso di corrente piccolissimo, si registra e voi dovreste sapere anche se non siete con 5 lauree che l'acqua è un ottimo conduttore, quindi se ho la mano un po' bagnata di sudore avrò una conduttanza elevata, se invece la pelle è bella secca la conduttanza sarà bassa, conduttanza e resistenza sono due reciproci, no, quanto più alta è la resistenza quanto più la pelle è secca, quanto più bassa è la resistenza quanto più la pelle sarà bagnata e quindi il flusso elettrico. Un trasduttore dal nome vuol dire che traduce un qualcosa che non è elettrico in un segnale elettrico perché l'apparecchiatura deve funzionare captando segnali elettrodi, quindi io metto un termistore sulla mano per registrare la temperatura e registro gradi Celsius, poi mi ci vuole un qualcosa che traduca il gradi Celsius in un segnale elettrico e per farmi notare i cambiamenti, è lo stesso per la respirazione, avrò una specie di cintura qua intorno che misura i movimenti dell'addome in base alla respirazione. Scusate, questo è molto importante perché come già detto ieri a qualcuno interessato e per esempio in persone con elevati livelli di ansia o attacchi di panico imparano fra virgolette a respirare ancora peggio delle persone in generale e già le persone in generale abbiamo detto ieri respirano male, qui viene una contrazione diaframmatica. Misurare bene questo, potrei approfondirlo ad una casistica se vi interessa, se mai vediamo domani, di casi clinici veramente importanti in cui è possibile con la stessa diagnosi clinica, in questo caso disturbo ossessivo eccetera, o attacchi di panico, ne ho due e due, vedere come a livello fisiologico si differenziano, ma in maniera del tutto logica e come respirano malissimo, si vedono molto bene questi atti respiratori brevi, quindi si immette nei polmoni pochissima aria e gli atti sono molto molto veloci, ravvicinati l'uno all'altro, quindi è come se uno ansi masse, quindi la quantità del singolo atto respiratorio, la quantità di aria immessa è scarsa, il movimento è molto accelerato. Un'altra cosa curiosa è che se io immetto tantissima aria velocemente accumulo ossigeno, ma la molecola di ossigeno per passare nel sangue ha bisogno di essere fra virgolette risciolta, ovvero mescolata con una nitrite carbonica che praticamente si accoppia sulla molecola dell'ossigeno e è come se la stendesse, immaginate chi di voi è esperto in cucina quando fate la sfoglia, ecco la stende e permette quindi di passare anche a livello ematico. Paradossalmente quindi se io assumo tanto ossigeno blocco l'assunzione dell'ossigeno stesso, mi viene ancora più fame d'aria perché non riesce a passare, non riesce a essere utilizzato, non so se mi spiego. Ecco l'attacco di panico perché a un certo punto uno respira sempre più velocemente, si aspetta che questo risolva il problema, lo peggiora e a un certo punto la fame d'aria dice oddio muoio perché non mi sento più respirare. Ovviamente in questa situazione il cuore accelera per cercare di sopperire la cosa in un giro vizioso che porta al parossismo fino al vero attacco di panico con caduta a terra con una crisi di tipo lipotimico. Ok? Ora queste sono le cose che si riescono a registrare, si parla di psico e cosa vuol dire? Vuol dire intanto che la registrazione è assolutamente e totalmente incruenta, non sente niente al soggetto. Quindi il soggetto non viene toccato, si ti mette addosso degli elettrodi però non hai nessun tipo di reazione, niente, se non che quando è finito ti levi con un po' di cotone il gel che ti è rimasto, la pasta conduttrice. Quindi non vi è assolutamente niente di nocivo, di doloroso eccetera. Assolutamente sì, che non sia l'opera o poco. Sì, è riportato anche nel 4TR esami di tipo psicofisiologico che possono aiutare a comprendere. Ma vengono utilizzati a diverse parti, oltre che da me, purtroppo molto poco perché nonostante che siano apparecchiature a basso costo, considerando il costo delle apparecchiature elettromedicali, si parla di migliaia o di decina di migliaia di euro. Un ecografo è considerato a basso costo sono 70 mila euro, insomma, è un buon ecografo. E la cosa paradossale è che esistono, darti un'idea, l'ultimo congresso mondiale della società di psicofisiologia si è tenuto a Firenze esattamente la settimana scorsa. C'erano tutti gli americani, perché la società è americana, e chiaramente appena hanno visto Firenze il congresso, ma tutta l'America è venuta qua. No, tutti. Tu che sei stata a Firenze, allora c'era il palazzo dei congressi, il palazzo degli affari e uno stanzone della fortezza d'abbasso. Quanti saranno stati? 3 mila, perché non esiste impire quelle cose. Sai quanti italiani c'erano? 20? Ma sono ottimista. C'era la collega di Padova, un altro collega di Roma, c'ero io con i miei due collaboratori. Non so, non è di moda, non so, forse siamo ancora... Anche quando ho pensato che sono le funzioni legate a strumenti diagnostici, non importa che dovresti evalutare, c'è sempre un problema, quindi potremmo dire le informazioni, come potrebbero essere gestiti, come la stessa situazione di sparo... Ti faccio vedere, non posso dedicare, ma ci sono altre cose da dare. Sono strumenti che sono assolutamente sicuri con tutte le certificazioni europee, il paziente è sempre in sicurezza, il passaggio dall'apparecchiatura, l'apparecchiatura è collegata alla corrente, ci sono delle pile al tungsteno che vengono caricate, il passaggio avviene per fibra ottica, per cui il soggetto non prende mai la scossa, anche se viene un fulmine sul palazzo dove siete, ovviamente, per cui tutte queste sono cose a norma, risaputissime, eccetera, è un ausilio importante, è un ausilio, non è come qualcuno ieri sera mi ha raccontato, è andata a fare una visita, non è presente, mi ha messo l'elettro di qui, l'elettro di di là su una cosa e poi mi diceva guarda il tuo corpo è malato qui, qui e là, se questa cosa funzionasse la faremo tutti, vedi il flusso energetico parte di qui, gira di là, torna di là, non ne capisco niente, mi fermo, però se funzionasse, anche loro, no tu c'eri ieri, tu non c'eri, ciao, piacere, chi sei? Ciao serenito, ciao. Funzionasse, però queste cose non è che sono nate l'altro ieri, queste cose sono vecchissime, i primi studi risalgono, chi ha studiato psicologia li sa, salgono all'inizio del secolo scorso, nel tempo si sono sviluppate, comunque brevemente perché poi voglio registrare se ne ha voglia l'art rate variability a Rita, se si offre volontario. Vedete, l'attività elettrodermica è quella cosa di cui abbiamo parlato, la sudorazione, le sigle indicano aspetti diversi e dello stesso tipo di registrazione, skin in inglese, skin conductance level, vuol dire il livello generale, R, SCR, vuol dire la risposta, quindi posso misurare il livello di base o la risposta a uno stimolo, le faccio BAU7 e quello che abbiamo visto ieri si vede quell'onda. Perdonami, scusami, dopo ne parlo, ne ho parlato ieri ma dopo faccio un piccolo appunto, un appendice per chi non c'è. GSR o GSR come dicono americani è Galvanic Skin Response, il SPR Skin Potential Response, per gli addetti ai lavori la differenza di potenziale fra palmo e il dorso. Adoperata soprattutto in clinica è utile perché intuitivamente sul dorso della mano vi saranno molte meno gandole sudoripere che nel palmo. Se io misuro la differenza di potenziale arrivo a un certo punto che la differenza di potenziale sarà zero se la persona non suda. È molto interessante questo anche se appunto è estremamente soggettivo per cui in ricerca non si può adoperare perché ognuno ha un livello diverso di valore oggettivo di conduttanza. Poi riesco a vedere se misuro per esempio a Rita o a chiunque di noi una cosa se uno stimolo provoca una risposta di un certo tipo o di un certo altro. In altri termini se io ho una risposta questo è carino per i clinici che lo vogliono fare. Allora mettiamo che questo sia un oscilloscopio nell'oscilloscopio c'è la parte positiva di sotto e la parte negativa di sopra di una qualsiasi onda. Se io ho una prevalenza dell'onda negativa su quella positiva questa è una risposta di tipo fobico. Se al contrario ho una prevalenza dell'onda negativa positiva su quella negativa questa è una risposta di controllo e quindi di tipo ossessivo. Quindi io ho una prima ipotesi se la persona davanti a uno stimolo stressante cerca di controllare e quindi la sua mente sembra di pensieri e dice allora io oppure se si allerta oddio cosa sarà. Questo è un ausilio ripeto però si chiama macchina verità o al contrario in inglese lie detector e può aiutare in certe situazioni. Ora la faccio molto più breve sulle altre. L'etemiogramma è la tensione muscolare, è intuitivo che se uno è ansioso è anche teso, la frequenza e l'ampiezza cardiaca, l'intervallo interbattito, IBI e IBI, c'è scritto sotto, la frequenza e l'ampiezza respiratoria, la temperatura periferica, la pressione arteriosa media, PWV sta per pulse wave velocity, anche questo per i tecnici. Se io misuro la pressione con lo sfignomanometro non lo posso fare in continuo perché stringendo il bracciale crea un'ischemia. Una volta che l'ho fatto deve aspettare un po' o lo faccio all'alto braccio quindi non ho una misurazione in continuo. Quindi qualche piccolo genio ha inventato una cosa semplicissima ma per lo psicofisiologo che non è un cardiologo ottimale. Cioè si misura la velocità del flusso sfigmico sull'arteria radiale che è questa. Quindi si mettono due elettrodi in due punti diversi, si capta l'onda R che ora vi farò vedere e in due punti io calcolo il tempo di transito. Bravo. Mi è proprio in pelle simpatica, non ci posso fare niente. Allora si fa l'autovelox presupponendo arterie pervie, perché mi ci vuole il cardiologo perché se uno è a 70 anni, aterosclerotico, devo avere la sicurezza che non ci siano problemi cardiovascolari. Io avrò una pressione media con la velocità, la velocità di passaggio del sangue mi dice quanta pressione c'è. Allo psicocoso, in questo caso fisiologo, interessa vedere i mutamenti nella pressione perché vi sono persone che sotto stress cronico, ieri abbiamo parlato tutto il giorno di questo, reagiscono alcuni tendendosi, alcuni sudando, alcuni con mal di panza e altri con sbalzi pressore. Vabbè. Lei è un caso eccezionale, bisogna... Ci vuole tanta compassione. soprattutto tanta pazienza, ma noi ce l'abbiamo, vero Rita? Allora, vediamo se così viene meglio. Allora, la registrazione è sempre multicanale, senza tutti... Io poi ce l'ho, ve l'ho fatto vedere ieri, nel laboratorio c'è l'apparecchio con otto canali, ma non c'è bisogno di registrare tutto il mondo, di impire la persona di elettro, di fili e cose, no? Però è necessario avere almeno un quadro di tre o quattro valori generali, per avere appunto un'idea di che cosa la persona utilizza nel suo stato, per cui lei può appunto tendersi a livello muscolare, tu puoi sudare, lei può avere un aumento del ritmo cardiaco e lui invece comincia a ansimare e Rita ha tutto questo messo insieme. Vi è una procedura che è stata inventata negli anni 70 da un certo Fuller, che è stata ripresa da altri. Io mi trovo bene con questo tipo di situazione, c'è una baseline, c'è una registrazione a riposo, la presentazione dello stimolo stressante e una fase di recupero. Vedete, in tutto questo sono la 16 minuti, che non è una cosa di quarto d'ora e hai fatto tutto. Dei prerequisiti sono necessari, essendo apparecchiature che registrano dei potenziali elettrici umani, quindi qualcosa come microvolts, milliamperes, micro-simmense, quindi milionesimi di volts. Ci vuole una stanza che sia schermata, ma basta una stanza con i requisiti richiesti oggi dalla legge. Lo amo, ma non ti preoccupare, ad oggi non ho cambiato gusto, però non è la prima volta che ci conosciamo da ieri, che è una bella gara fra loro due, secondo me. Allora, grazie. Allora, tanto per spiegare anche a chi non c'era. Io sono, come dicevo anche a lei, molto gratificato dalla partecipazione. Primo non mi danno 3 milioni di euro, ma anche se me li dessero, venire qua e prendere i soldi e tornare a casa con le persone che dopo 5 minuti vanno via perché si annoiano, mi disturberebbe tantissimo. Mentre siete estremamente gratificanti per uno come me. Il che vuol dire che siamo online, cioè che sono riuscito a costruire un livello di comunicazione, pur parlando di cose strane. Ora, dopo parlerò più diffusamente della comunicazione, guardo lui perché ne parlavamo ieri, della necessità di creare nel lavoro di keep nel teamwork, un livello di comunicazione che è apparentemente facile, ma invece non lo è affatto nella realtà. Però questo è molto positivo. Perché? Perché ci vuole una registrazione di base per vedere quale canale preferenziale un tizio utilizza. Ma successivamente, l'ho già accennato ieri, però, è importante a distanza di un certo periodo di tempo, che non sono ore o giorni, possono essere anche settimane, fare un qualcosa di più vestito sul singolo. Per cui io conosco lei, mettiamo, la mia procedura è che lei viene da me, buongiorno, sta con me 45 minuti, faccio un iniziale assessment, una valutazione, un colloquio, un'analisi, scelto. Poi propongo alla mia paziente, lei, ho scelto lei, non è scelto me, ho scelto io lei, come ieri, guardi, io faccio un check-up che dura circa 3-4 volte. L'urgenza non è mai psicologica, l'urgenza è medica. Se lei è fuori di testa, va al punto soccorso. Ok? Poi, lo psicologo può servire al punto soccorso per gestire la comunicazione, per gestire tutto, ma l'ha. Tutto subito fatto bene, soprattutto il nostro mestiere non va. Quindi io le spiego, guardi, faremo delle osservazioni, faremo, approfondiremo le cose che mi ha detto oggi, faremo alcuni test standardizzati per capire, che ne so, il suo temperamento, la personalità o anche i suoi sintomi, faremo una valutazione anche psicofisiologica, visto che lei pensa di avere un disturbo della stessa. Alla fine o anche durante io le restituirò tutto, cioè le racconterò ed è quello che farò. Quindi mettiamo che la volta successiva lei torna, fa un bel colloquio, dico, guardi, facciamo anche questo questionario e mettiamo, fa il CBA, che sta per Cognitive Behavioral Assessment, che contiene delle schede di valutazione insieme proprio a una storia più diffusa. Quindi me lo compila, io per la volta dopo mi elaboro il test e le faccio la restituzione. Le dico, guardi, le ha scritto questo, è venuto fuori quest'altro. Ed è già un atto terapeutico se lo utilizzi bene, perché io do una restituzione, quindi è già uno specchio. E quindi lei si intravede attraverso me. Ed è terapeutico, pur io non facendo nessun tipo di terapia. Farò anche due o tre incontri di questo tipo, alla fine darò una restituzione globale e dirò, ho capito questo, è venuto fuori quest'altro e nel mio modo di fare terapia dirò, guarda, facciamo una specie di contratto, 20 incontri e poi ne riparliamo. C'è un tempo terapeutico che non è ovviamente fisso, ma è supposto. È molto importante dare una scadenza al paziente, che non vuol dire che fra 20 sedute, che poi sono tante, perché se vedi una persona ogni settimana, 10 giorni, sono mesi. Poi ci sono le ferie, le influenze invernali, Natale, Pasqua, Carnevale, capito? Quasi un anno, sono 9 mesi. Però non gli dici, guarda, io ti guarisco in 20 sedute. Ti dico, guarda, fra 20 incontri ci abbiamo un primo paletto con scritto verifica di tutto. All'interno di questo, per esempio nei primi incontri di terapia, allora rifai il profilo eventualmente, se è importante, perché non è che lo fai al 100% dei pazienti, da quelli che hanno un consistente rischio di un cubo, da stress, e a quel punto somministri il famoso stress soggettivo. Cioè vi sono delle situazioni, uno stress per esempio oggettivo, sono le PM 47, ma una cosa molto utilizzata è il cosiddetto Mental Arithmetic Task, che non è altro che una sottrazione seriale. quindi tu devi levare, lo facciamo fare a lei, che è una neofita, allora voce alta, 1700-13, e continuare così. È impegnativo, non è così semplice levare un numero di due cifre da uno di tre. Allora, scusate. Allora, intanto finiamo di rispondere a lui. Eh, non state attenti, quindi non ve lo dico, rispondo solo a lui sotto voce. Aspetta. Nel secondo controllo invece, psicofisiologico, prima di arrivare all'esame ematochimici, somministrerai uno stress soggettivo, cosa che ho già accennato ieri. Quindi andrò proprio a verificare qualcosa che è inerente al problema che l'ha portata a visita e vorrò vedere quanto, fra il confronto e due profili, una cosa è l'impegno mentale, una cosa è parlare e quindi rivivere. Quindi in quel momento, in quei minuti, pochi minuti, hai un vissuto delle emozioni, non hai soltanto un impegno mentale ed è molto interessante. Questo poi ti permette di fare quello che è la cosa più importante, la verifica del trattamento. Fai venti incontri, benissimo, sedute, chiamala come ti pare. Alla fine rifaccio il profilo psicofisiologico e voglio vedere se è scomparso quel picco. Mettiamo che uno c'è l'attacchi di panico perché ha un pessimo rapporto con la madre o vediamolo se dopo venti incontri c'è ancora. chiaramente non ci deve essere sul grafico ma anche la persona deve avere la sensazione di star meglio. Le due cose devono andare insieme, però in questa maniera è un dato oggettivo della serie. Il trattamento che sia misto, farmacologico e psicoterapeutico, che sia terapeutico e basta, che sia counselor, che sia di sostegno qualunque questo sia, io ho un dato, uno o più dati perché avrò anche altri sistemi che mi dicono che quello che ho fatto e che è visibilmente descrivibile ha per quel soggetto lì e in quel tempo l'ha funzionato. Per quanto riguarda gli esami ematochimici, quelli che sono i più importanti sono l'equilibrio elettrolitrico, quindi gli elettroliti sono importantissimi per il passaggio dell'informazione a livello cellulare ma in particolare a livello cellulare. Quindi sodio, potassio, magnesio, calcio, queste cose qua. Quindi il medico curante li segna gli elettroliti e li segna o uno per uno, quindi N, A, eccetera, eccetera, oppure ci mette l'elettroliti. Quello che per lo stress o il lavoro sullo stress è importante, poi l'abbiamo detto ieri, è il cortisolo, la prolattina, PRL in sigla, tutti gli ormoni tiroidei, quindi TSH-FT3-4. Poi può essere importante il metabolismo del ferro, quindi la sideremia, ma per controllare la sideremia ci vuole anche... Questo è il primo esame che normalmente... L'emocromo, perché il ferro diminuisce perché se c'è un problema di anemia, quindi l'emocromo è un'altra cosa utile, se si fa l'emocromo deve andare insieme a questo, e per finire, nei casi in cui vi sia aumento e diminuzione del peso della persona, il GH, il growth hormone, l'ormone della crescita. Questi sono dei suggerimenti che non fanno mai. E lo so, infatti ieri abbiamo parlato della serie Colpito Affondato, ho fatto un esempio proprio casualmente, uno a caso, ma sai quanti ce ne sono? Beh, attenzione, qui non si dice che in giro vi sono solo capre, in giro vi sono dei professionisti di primissimo ordine, ok? Poi vi sono quelli di primo ordine, tra i quali mi ci metto modestamente anch'io, poi ci sono quelli di medio ordine e poi quelli di sott'ordine. Ecco, quelli di sott'ordine non vanno bene, perché creano dei problemi al posto di risolverli. Queste sono cose molto tecniche e che un clinico psicologo, ma anche se volete un nutrizionista o altri, potrebbe suggerire al medico curante di fare. Poi ovviamente il medico curante come medico personale ci inserisce tutto quello che vuole, già che c'è, il buco è sempre uno, quindi a quel punto fa altri controlli che lui tiene opportuni. Però ecco, queste sono cose importanti. Il cortisolo sale moltissimo nelle situazioni di stress cronico, si innalza anche la prolattina, può aumentare il TSH nel caso di problemi tiroidei o le altre, uno è il tiriodotropo, quello che produce, che attiva la gandola, gli altri sono quella circolante, libero, ma non entriamo troppo in dettaglio. È importante, è importante perché se una persona va da un consulente e non è stato da altri prima, questo ha il dovere di capire se è un problema specificatamente suo o se è un problema misto. ma è un dovere etico, ok? Quindi io faccio il mio di mestiere, non faccio il tutologo, e quindi dove non arrivo io ci penserà a lei, ci penserà a lei, ci penserà a lui. Però mi devo porre il problema, perché se non mi pongo il problema rischio di dare l'antidepressivo a chi ha un problema di tiroidite da scimoto, che può essere una malattia autoimmune e che può produrre però dei guai come appunto un carcinoma tirideo, che è un brutto tumore. Io purtroppo ho saputo di persone che hanno trattato, anche in questo caso psichiatra, psicanalista, che hanno trattato una persona che aveva cefalea, che si era poi evoluta con cefalea e vertigini, non si era occupato nemmeno di vedere se era una sindrome di Menier e che poi era risultato un tumore cerebrale questa volta. Quindi, per l'amor di Dio, si sbaglia a tutti, è rare umano. Se io però sto attento e sono rispettoso e soprattutto sono umile, cioè dico voglio fare bene il mio. E quindi io mi rivolgo in maniera polemica di più agli psicologi e gli dico studiate, perché le cose che mi hanno raccontato, e io sono anche un docente, sono poca cosa. Studiate perché non è soltanto il regime consolatorio quella la psicologia. Quello è la psicologia gratuita o la psicanalisi selvaggia da bar. Dovete stare molto, molto attenti perché il cervello è una cosa complicatissima. E cerco di farlo vedere, di spiegarlo, anche però ai non specialisti che non vadano da un operatore della salute, chiunque esso sia, aspettandosi il miracolo, perché se no si mettono nella bocca del lupo. Vanno incontro al mago, alla fattucchiera. Preferisco dubitare, però capisci queste cose di cui parlo, ne è piena la letteratura scientifica. Non avete forse mai sentito parlare, vabbè questa è la pelle, mi interessava farvi vedere il cuore. Ecco, questa roba qui è quello che noi abbiamo nel petto. Ieri parlavamo delle arterie coronarie, sono quelle cose rosse che vedete lassù in cima. Quello che oggi vi faccio vedere è un'analisi di cui ho parlato ieri pomeriggio e che si aggiunge perché si affianca. E' una cosa diversa da quello che si chiama, in gergo, il profilo psicofisiologico o da stress. E poi il profilo da stress o il profilo di rilassamento, ma anche questo ci complica la vita. Cioè, io posso vedere quanto lei è stressata o posso vedere quanto lei riesce a rilassarsi, che non è esattamente la stessa cosa. Lei può non essere particolarmente stressata, scusate, ma può avere difficoltà a distendersi. Nel primo caso starà male, nel secondo caso non starà bene. Eh, cogliela tu! C'è la differenza, c'è come? La differenza? Eh, la cogli perché se hai un profilo da stress elevato vuol dire che sei molto stressato. Se hai un profilo di rilassamento non adeguato vuol dire che vivi male comunque. Tutto quello che è in natura è fasico. Giorno, notte, buio, giorno, buio, eh. Caldo, freddo, quindi tutto quello che è fisiologico è ciclico. Tant'è che quando l'elettrocardiogramma è piatto, siamo un po', un pochino. elettrocardiogramma, qualsiasi cosa. Quindi quando uno è fermo, o si sente fermo, con una sensazione psicologica del tutto falsa, di sicurezza, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Invece quando uno è in movimento, che a volte dice oh Dio sono troppo in movimento, poi la sensazione è positiva. Due secondi e non diventiamo cardiologi, però questo è l'analisi delle onde dell'elettrocardiogramma. Ci serve solo per vedere dov'è l'onda R. Vedete? È l'onda più alta. È quella che sentiamo al polso. È quella roba là. Quindi vedete, per comodità PQRST sono le onde. E poi vengono letti dei trattini per capire che cosa accade. Per esempio, un sottoslivelamento del tratto ST vuol dire che hai un processo ischemico. Quindi c'è un'arteria grossa che si sta chiudendo e non arriva abbastanza sangue al squale. Cosa gliene importa a chi si occupa di stress e di questa cosa? È molto importante perché, come ho detto ieri, vi è una concordanza tra le tante del nostro organismo fra respirazione, frequenza cardiaca, sistema nervoso autonomo attivante o simpatico o invece che distende il parasimpatico. È possibile, è stato scoperto, trovare un aspetto che ci dà un'idea sulla concordanza tra... Ecco, questo l'avevo già fatto vedere ieri, vero? Questo è il modulo, quello che vedete di là, con otto possibilità di registrazione. Allora, che cosa succede? Non vi voglio annoiare con gli algoritmi strani, però, solo per spiegare. L'elettrocardiogramma è riconducibile a una cosa del genere. Cioè, l'elettrocardiogramma viene ripulito e si hanno solo le oscillazioni dell'onda R. In questo modo si vede il valore massimo, il valore medio, il valore minimo e il numero degli intervalli. C'è scritto sotto. Quindi vi è la possibilità di registrare un count proprio di questi valori. Poi, è possibile capire la frequenza di campionamento, eccetera, eccetera, arriviamo a qualcosa di più comprensibile che è questo, che è questa cosa qua, che si chiama analisi spettrale. Cosa va a identificare? Le possibili congruenze, tra congruenze, all'interno dell'analisi della frequenza. Quindi, cosa vuol dire frequenza? Le Hertz, cosa sono? Il numero di... La frequenza delle onde nel tempo. Pensate, il picco dell'onda R. Quindi, non tutto elettrocardiogramma viene preso il picco. Viene preso quindi il numero. Viene misurata l'ampiezza. Cioè, la variazione nel tempo, prima era così, poi è così, poi è così. Quindi frequenza, ampiezza, tempo, si chiama IBI o intervallo interbattito. Poi viene presa, attraverso algoritmi che sono già presenti, una valutazione media di quella che è la frequenza, ampiezza e intervallo di un cuore a riposo. Normalmente il cuore a riposo ha sotto 70 battiti al minuto. Se una persona è sportiva può avere anche 50, 55, 60. E questo per la frequenza. L'intervallo interbattito è regolare, quindi tot Hertz, eccetera, eccetera. viene immagazzinato e viene creato a quell'asse ortogonale che vedete, quella croce di sotto. Questo è tutto presente già nel software che ora utilizzerò senza mostrarvi, per l'amor di Dio. E è in grado di dirmi un software particolare se quella data registrazione in quel momento, vi sono delle probabilità che sia una registrazione a riposo, che sia invece mediamente attivante o che sia invece molto attivante. Spettro vuol dire, non è lo spettro il fantasmino, spettro vuol dire di tutto questo quadro generale. Ora lo farò vedere se si offre volontaria la rita così. Vediamo di nascosto l'effetto che fa. Vieni, portati qua la seggela, vieni. Ed è una cosa di una semplicità incredibile. perché da buoni americani, questa è la penultima versione, questo è un opto riflettore. Mettiti di qua, appoggiata qua, così li vedono anche gli altri. ha un software che è all'interno di questa chiavetta USB. Viene installata sul computer e il computer, se collegato a internet, si collega con la casa madre che ti dà l'autorizzazione a partire. E così non lo copi. Ok, informatico? Ti avvicini un attimino? Vabbè. All'orecchio te lo metti questo. Al lobo, proprio in fondo in fondo. Sì, ok. Allora, una registrazione proprio sul lobo dell'orecchio, quindi non dà assolutamente fastidio la pinzetta. Scusami. Te la metto qua perché non si muove il filo. Quindi, tutto fatto, non c'è niente da fare. Non c'è nessun tipo di manovra aggiuntiva. Vediamo se si vede il programma che si apre. che è difficile. No, stavo immaginando il computer. ci fa altra cosa. No, veramente c'è un po' più. Allora, Rita, poi, Bianchi? Data di nascita. Bello, non risponde, ci fa piacere. Sei riuscito a bloccare anche questo? Come hai fatto? Purtroppo io ho un computer, il mio computer è ovviamente installato, ma non ha l'uscita per il, no, no, ha solo la porta H, Y, come c'è, aspetta, heart rate variability, la variabilità della frequenza cardiaca. Non c'è la connessione internet, vero? Eh, se no non ve lo faccio vedere, pazienza, mi spiace però. Non capisco perché era un patto, però. Anche. Sì, beh, certo, è un laboratorio, un pochino più. Grazie. 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 No. Sono l'allergologo, il nutrizionista? Sì, la maggior parte sì. Si vede ma siamo tutti più o meno intolleranti a qualcosa, quindi basta cambiare cibo, basta cambiare per un po'. C'è la nutrizionista, dove è la nutrizionista? No, non c'è più. Lo sto reinstallando perché prima non c'era la connessione, non sono così cretini gli americani, soprattutto in California, per cui tutte le volte che lo accendi loro verificano se sei proprio tu. Questo è un software che costa circa 800 euro, 1100 dollari, una cosa... Ok, vediamo. L'informatico, questo qua è uno zero o uno? Questo qui è uno zero, vero? Zero. Ok. Grazie. Se non mi... Non gli piace questo tipo di computer. Forse non gli piace il computer. Secondo me è colpa tua. Sempre colpa tua. Il problema è che ti riesce difficile... Mi spiace, volevo farvelo vedere, ma c'è qualcosa che ce lo impedisce e stiamo perdendo secondo me troppo tempo. No, se ha un cavo... come si chiamano i cavi? No, non c'è. Non c'è la... Se ha il cavetto quello... No, non c'è la... Ha già capito al volo. No, no, no. Portavo il mio computer e adesso il mio è installato. Solo che ho il cavo che si chiama H... Quello... Immagine e suono insieme, come si chiama? Quello lì. Quindi... Se hai il cavo, quello lì, però... Manca... Niente, non ne vuoi sapere? Sì, oppure a Viareggio, come dove vuoi. Sì, sì, l'avrò pure perché non riesce a partire. Sì, sì, l'avrò pure perché non riesce a partire. Qui, a farlo andare, se no... Non... Non... Ma non penso ci sia niente da fare, perché non... Sì, però non fa niente come il cavo HDMI. No, portavo il mio computer. Eh sì, attacca il computer, ma non lo può mettere alle ponte. Non c'è la pesa qua. Eh, non l'avevo. No, no, non c'è. Non c'è. No, ma... Perché non ha la presa... Non ho questa, io, insomma, qui. C'è capito? Vabbè, pazienza. Faremo senza. Dobbiamo fare. Ah, non lo so. Non parte. Mi spiace. No, vabbè, ma non... Ma non c'è qui... Non c'è la presa qua, capito? Per questo cavo... No, è complicato. Non c'è qui la... Eh, ma non c'è nemmeno niente. Cioè, è piccolino lo schermo, tipo questo. Vabbè, non lo facciamo oggi... Ma non capisco perché... Non lo so. Non le piace... Non gli piace questo. Se di solito si collega tramite la red run o tramite la wireless. Perché la wireless potrebbe alle volte essere un po' più lentina. Sì, eh. Cioè, ci sono alcuni... Mi spiace. Ho fatto tutti i tentativi che potevo fare. Oggi porto il computer e vediamo se... Con questo... Grazie. Grazie. Evitiamo di creare problemi. Grazie. 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 E se mai ve lo faccio vedere lì, un suggerimento che ha dato Fabio mi sembra buono, nel senso di eventualmente lo inquadriamo con la telecamera e lo facciamo vedere, per completare questa cosa. La buona volontà per farlo vedere, visto che ne avevamo parlato con lei ce l'ho messa, ma che le volte ci sono delle incompatibilità o ho sbagliato qualcosa. Comunque, vedremo. Il problema per quanto riguarda il proiettore è che non ha questa porta, però potremmo trovarla su uno schermo, se fosse un televisore, che ne so, uno schermo, basta. Troviamo, e io oggi pomeriggio vi faccio vedere quello che non vi ho fatto vedere ora, l'aspetto interessante è quello della facilità dell'apprendimento all'autogestione dello stress. Per chi c'era ieri sa, e ha imparato benissimo, che lo stress non è una malattia, ma è una gestione delle nostre risposte complesse, non univoche, agli stimoli interni ed esterni. Vi sono, gli americani in questo sono un po' maestri, dei programmini che vi farò vedere, se ce la faccio oggi, che sono di un intuitivo incredibile e che con tempi di applicazione molto brevi riescono a far capire cosa vuol dire rilassare il muscolo diaframma, imparare a respirare adeguatamente. Lo fanno vedere in maniera intuitiva, questo non vuol dire che tu l'hai visto e automaticamente l'hai imparato, e no, non è così facile. Però è estremamente utile creare un ausilio esterno che ti permette di vederti, di vedere delle funzioni che normalmente sono sotto il controllo del sistema nervoso autonomo, quindi che ne accordi soltanto quando sono esasperate, quando c'è il cuore in gola o altre cose. Va bene, un altro argomento che volevo trattare con voi, penso vi interessi, è quello del grosso problema della comunicazione, che è collegato strettamente a quanto detto sinora, perché? Perché anche, non solo, ma anche il buon clinico psicologo dovrebbe insegnare, far capire alla persona come comunicare intanto con se stessa, con le varie parti di sé di cui abbiamo parlato ieri. Una premessa importante è che noi comunichiamo con i mezzi che abbiamo a disposizione, e i mezzi che abbiamo a disposizione sono tutt'altro che perfetti. Noi, a livello percettivo, ieri abbiamo anche fatto la differenza, abbiamo spiegato la differenza fra sensazione e percezione, utilizziamo i nostri sensi, che noi diamo per scontato che sono perfetti, ma perfetti non lo sono affatto. A livello visivo, noi utilizziamo per la corretta percezione della realtà, le cosiddette illusioni ottico-geometriche. Per cui la prospettiva, se io vado in fondo alla stanza, è vero che quell'angolo lì è più piccolo di quell'angolo là, cosa ovviamente è del tutto falsa. Se mi metto nel centro della strada ferrata, vedo a un certo punto i binari che si toccano, ovviamente è altrettanto falso. Questo tipo di percezione è oltretutto, questi errori percettivi vengono implementati a livello cerebrale dalla cosiddetta ricostruzione o completamento dell'immagine. O meglio, il nostro cervello, che è quasi perfetto, va a cercare, senza fare uno scanner, cioè un'analisi sequenziale, l'immagine o il significato più prossimo al percetto, mettiamo visivo. L'immagine che vedete lì è un esempio. Vedete quell'albero strano che sembra invece una figura umana? Esatto. Ma ce ne sono anche altre, divertenti. Vi sono milioni di illusioni ottiche geometriche, migliaia, che hanno creato i vari artisti o psicocosi. La ricostruzione dell'immagine avviene secondo quello che sono i canoni che noi abbiamo nel tempo costruito. Il punto è importante perché, mentre è intuitivo e spontaneo utilizzare il nostro sistema visivo, uditivo, eccetera, non teniamo conto che queste percezioni, appunto acustiche, visive, questo riconoscimento di un segnale, può essere in parte almeno dovuto a una ricostruzione mentale nostra. Ecco perché è sempre educato dire, mi sono spiegato e non dire... Hai capito? Perché? Perché noi abbiamo la pretesa di essere stati chiari, perché nella nostra testa abbiamo una costruzione mentale, ma quello che esce fuori è tutt'altra cosa. Questo è molto importante come premessa proprio per poi entrare negli studi sulla comunicazione. Io qui ho fatto un breve... A parte non siete nemmeno bene, comunque dopo ve lo faccio più chiaro. Un breve scursus storico, senza andare ad approfondire, ad annoiarci sulle teorie che sono tantissime, però ve ne accenno alcune. Le cose che sto dicendo ora sono una premessa, secondo me, basilare per tutti quelli che lavorano con il pubblico, con il sociale e a livello sanitario. Noi abbiamo un quadro della realtà che è soggettivo, lo diamo per scontato e ci crediamo. Mettiamolo in discussione. Ed è quello che purtroppo non si fa nelle situazioni di comunicazione infra e intergruppo. Cioè si dà per scontato che le cose siano in realtà così. Esatto. Allora, ieri già abbiamo visto la differenza fra ingresso, ricostruzione mentale e sviluppo delle emozioni. Ma è anche vero che questo produce delle sensazioni assolutamente soggettive. Quindi può darsi che se io ho un buon feeling con lei noi abbiamo un'emozione simile. Può darsi. Ma intanto non possiamo avere un buon feeling con tutti. no? Il buon feeling può essere particolarmente antipatico e non c'è un feeling. Quindi lo stesso tipo di avvenimento, situazione, io la ricostruisco in un modo e l'uno in un altro. E questa base è da tenere sempre presente. Non solo, ma come per altre ragioni abbiamo detto ieri, la realtà è multiforme. Quindi dipende anche dall'angolo visuale attraverso il quale io vedo la realtà. Per cui se lei è in piedi sul tavolo, in ginocchio per terra o è seduta può avere una percezione diversa dello stesso tipo di ambiente o situazione. Quindi lei avrà un ricordo di ieri pomeriggio di un certo tipo che è diverso dal tuo. Eppure eravamo qua, no, tu non c'eri, vabbè, tu sì, e eravamo nello stesso ambiente. Questo dipende dalla vostra storia personale, dalle vostre caratteristiche, temperamentali, eccetera, ma anche dal vissuto accoppiato a questo. Voglio dire che comunicare viene dal latino comunione che vuol dire avere qualcosa di simile quello che si dà per scontato è che la seggiola piaccia a tutti. Può darsi la seggiola o che come spesso accade nel sud tu debba che a bere piaccia a tutti. Uno va in una casa e dice bevi qualcosa? No, grazie. Bevi qualcosa? No, grazie. No, ma mi offenditi. Ok? Mangia. No. Perché lo mangi? Perché ti ho antipatico? Ecco, vabbè. Quindi... questi aspetti che sono strettamente psicologici da tenere presente sono però di primaria importanza quando si entra all'interno di questo universo. io lo so che non c'è un'idea però tutte le volte che parlo di questo argomento risottolineo questo aspetto perché si dà per scontato che ci sia il gruppo. No, il gruppo non c'è. Il gruppo si costruisce. Ed è un lavoro costruirlo. Cioè, inutile che siamo tutti dell'Arci siamo tutti dell'Arci benissimo cioè, a te sarà dell'Arci della mia città e che vuol dire? Vuol dire che siamo fratelli? No, possiamo al massimo avere un certo tipo di idee simili no? Però il punto è al massimo il punto è intanto come vedremo si creano i problemi dei ruoli ancora prima di comunque queste sono le cose generali no? Guardate questo è proprio banale banale la comunicazione umana a moltiplici dimensioni è un'attività sociale comunicare è partecipare è condividere è un'attività eminentemente cognitiva è strettamente connessa con l'azione è disgiunta dalla discomunicazione allora attenzione perché già qui ci sono tremila concetti come? esatto quindi cognitivo cosa vuol dire cognitivo? cognosco quindi da latino cognosco vuol dire sì va bene quindi il vero significato è nel Vangelo di Mantero ha capito qualcosa per certo qualcosa c'è scritto e solo allora Giuseppe conosco Maria che vuol dire? quando sono state in funizia quindi vuol dire a propria fare sua quindi è un concetto ancora di cognosco vuol dire che mi faccio entrare nei primi quindi quindi non solo l'ergo ma è un concetto di funerio proprio ho lasciato il cellulare acceso scusate pronto è un concetto molto più profondo conoscere di accoppiare vorrei fare coppia con te anche a giocare a tennis ma conoscere invece è qualcosa di più intimo ricordate ieri parlavamo del bacio è un modo di far suo un altro ho qualcosa di te una cosa è toccare io le posso toccare i capelli non posso ma non mi sono appropriato di lei a meno come degli strappi me li posso mettere ma se io cognosco vuol dire non che l'ha violento sulle scale del comune no conoscere vuol dire entrare a far parte quindi io posso conoscere anche a livello emozionale affettivo e cognitivo quindi non è solo un cognosco fisico lo scambio di saliva che l'era non c'era ieri del bacio sulla bocca che viene fuori appunto dallo scambio tra madre e figlio di una volta del cibo che era masticato non c'era la plasmon e veniva quindi era qualcosa di intimo che evidenza proprio la famiglia la familiarità l'intimità il cognoscere è un aspetto quindi l'aspetto cognitivo non è l'esame neuropsicologico delle funzioni cognitive no è il cognitivo cioè degli aspetti che sono basilari per la mia conoscenza cognitivo vuol dire attenzione memoria rievocazione conoscenza e utilizzo della conoscenza stessa vuol dire tutte queste cose vuol dire filtro cognitivo ovvero sistema cognitivo di riferimento ovvero su quale idee io mi baso quindi se io sono un musulmano estremista lei è un essere inferiore e quindi il mio possesso è di una cosa e quindi lei mi deve obbedienza bla 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 deve andare a giro col burdo eh perfetto se sono un peruviano delle Ande vicino al lago Titicaca ecco che utilizzerò un linguaggio comunicativo diverso non so se qualcuno di voi è stato in Perugia ha avuto la fortuna di andarci vi sono qualcosa come 160 140 idiomi diversi nel telefono pubblico c'è una sfilza di linguaggi così nel linguaggio degli Indios delle Ande tenete presente che per darvi un'idea il passo per arrivare a questo posto è 4860 metri il passo cioè il canale fra le montagne quindi è alto come il Monte Bianco il passo c'era il pulmo che era tutto così arrivai l'albergo e le avviso la pressione a tutti perché erano abbastanza succogliane il passo era 4860 metri per darvi un'idea e in questo linguaggio non vi è nella loro lingua non esiste il pronome possessivo riferito alle persone meraviglioso cioè non si dice mio figlio mia moglie mio marito ma si dice la persona che vive con me la persona che ha il mio sangue è meraviglioso è fantastico cioè per me per un altro può essere indifferente per me io sono rimasto innamorato di questa cosa quindi tu non sei mia cioè io sono te io sono con te noi siamo bello fantastico tentate la differenza perdonami è perbacco se è diverso se pensate quindi il punto di riferimento come è importante il punto di vista ok è necessario tener conto di questi aspetti anche nel nostro microcosmo l'abbiamo già accennato ieri quando parlavamo della manifestazione delle emozioni perché gli usi e i costumi tra Taranto e Parma sono un pochino diversi ok diversi attenzione anche qui ai complessi di colpa noi siamo piccoli e neri come il no diversi non è detto ho citato ieri e c'eri mi sembra il congresso internazionale di expression non expression of emotions perché non vi è una c'eri vabbè c'è un appunto perché non vi è una regola e non è bello reprimere tutte le emozioni e non è fastastico mostrare tutte le emozioni non c'è probabilmente mostrarle troppo non è necessario così come non è necessario reprimere perché sennò più o meno schianti insomma ecco queste considerazioni sono tremendamente importanti perché perché se Fabio è un antropofago per lui è giusto cercare di tirarmi fuori il cuore e mangiarlo perché così mangia quello che c'è nella mia forza e questo è perché questo è il suo punto di riferimento alle sue convenzioni o per un che ne so un ebreo è importante che nessuno tocchi il cibo o per un che ne so un testimone di Geova il sangue come gli ebrei antichi non non può essere toccato e se per noi diciamo ma sono tutti cretini no sono cretini hanno un'altra idea ok poi io posso chiamare giustamente quelli della Juventus brutti, gobbi, maledetti però possiamo andare sul oppure posso dire brutti tossicaci come possono dire loro oppure posso dire caspita c'è di persone che guarda com'è finito questo ecco vedete nella in quest'ultima in questo minuto di frase io ho volutamente messo l'accento su non mi viene in mente lo dico io sul giudizio l'ha detto? ma infatti attenta lo vedo che attenta ho messo l'accento su questo aspetto allora appena io mi inserisco in un sistema giudicante taglio la comunicazione non c'è l'avvocato ma è come se dicessi io sono il giudice io sono il magistrato comando io ok questo è accettabile questo non è accettabile quindi non vi è un gruppo ma vi è un greggio di pecore dietro un pastore laico o religioso che sia quindi questi queste caratteristiche sono di fondamentale importanza da non si legge un accidente non vi è mai abbastanza spazio per spazio mentale e fisico per mettere in luce questi aspetti che appunto apparentemente sono banali ma solo apparentemente d'altra parte è anche vero che io non posso interagire con l'ambiente se non con i miei sistemi cognitivi con il mio modo di vedere le cose dimmi Fabio la mia modesta esperienza che mi fa un dato che come penso altri sicuramente che in questo ultimo periodo storico c'è in giro questa rabbia di quindi per cui la prima cosa magari tu sei in un bar prego un gesto di cortesia ma cosa vuole cioè no questa ed è uno un filtro indifferente di una pubblica c'è è un ostacolo a a metter su del laborato che c'è un po' cosa c'è è da tenere da conto questa cosa cioè c'è come se non è nessuna condivisa sono le specie che potrebbero sbagliare d'altra parte come dicevamo ieri per certe professioni d'aiuto ma anche per chi di voi è genitore uno può dare e se è pieno di rabbia e tirerà fuori la rabbia semmai c'è modo in modo ed è questo che fa di un leader della comunicazione un buon leader non impedire o permettere la comunicazione ma guidarla attraverso dei canoni che si ritengono adeguati per quella data situazione e ambiente quindi non dare libero sfogo alla rabbia ma fare in modo che vi siano situazioni nella quale rabbia possa uscire pensate che vi sono delle persone che anche in situazioni di psicoterapia individuale non riescono sono bloccate per cui se io dico a una persona picchia sul tavolino non riesce a fare questo oppure fa tira fuori la rabbia fammi vedere mica devi sparare su di me provo a tirarla fuori così come a livello di comunicazione intrapersonale ci sono appunto persone che non amano adeguatamente se stessi o non si curano abbastanza di sé un esercizio che io spesso faccio fare è quello di darsi un bacio sul dorso della mano ok dati il bacino sul dorso della mano anche tu allora sapete una persona affetta la cefalea tensiva cosa fece cefalea tensiva io quegli anni scrissi o mi fece un'intervista su tipo grazia oggi gente e parlai dell'aspetto psicologico stress correlati delle mal di testa ho preso il trattamento psicologico e biofeedback che è questa tipa che abitava nei dintorni mi dice guardi ho letto questa cosa posso venire da lei questa venne e iniziai a fare quello che faccio vi ho spiegato prima normalmente nella mia attività clinica quindi io come avrete capito Dino mi perdo tantissimo nella diagnosi e nella diagnosi funzionale non etichettata e quindi a un certo punto ebbi questo sospetto e le dissi di fare come ho detto di fare a lei questa persona si lette un morto sulla mano a sangue la rabbia che aveva dentro non riusciva perché ovviamente c'era un conflitto fra quello che avrebbe voluto essere e quello che era il conflitto è sempre questo quello che Freud e successori chiamavano l'io ideale l'io reale e l'io percepito e questo conflitto era per lei sostenibile non gli ho mai fatto il biofeedback ha fatto una bella psicoterapia e siccome io faccio fare dei self report verbali faccio scrivere le persone conservo ancora da qualche parte il suo scritto quando venne da me e mi disse mi scrisse sono andata al mare e improvvisamente sono avuto una nuova coscienza ho presa e mi sono buttato in acqua cosa che non ho mai fatto in tutta la vita perché lei cominciava a pensare ma allora sarà fredda mi verrà mal di testa ci sarà troppo vento non sarà troppo caldo non sto sudando allora aspetta la settimana non facevo il bagno vedevo tutti quelli nell'acqua allora provavo rabbia eccetera eccetera e mi sono buttato lì per lì ho avuto freddo ma poi per la prima volta a più di 40 anni 45 anni nella mia vita ho sentito ho avuto la sensazione dell'acqua sulla mia pelle e mi sono sentito per la prima volta viva dentro qualcosa e questo è avvenuto dopo la morte del padre e lei mi scrisse mi sono reso conto di aver toccato mi dai la mano di aver toccato la mano di mio padre per la prima volta nella vita sul letto di morte il mio contatto fisico con la mia figura paterna è stato sul letto di morte quindi pensate che tipo di condizionamento avrà avuto noi non siamo abituati a toccarci è molto abbiamo visto anche ieri la distanza la prossemica però perbacco una ragazza figlia unica perché ha figli qualcuno di voi ha figli sì molti ce li avete hai una bambina tu sono zoccole le bambine la mia lo è sicuramente nel senso buono del termine sono civettuale ti vengono lì ti toccano papi eccetera sono quindi è un gene infatti lo dico sempre non lo registrare questo per piacere ti ho detto che tutte le donne sono zoccole in questo senso ovviamente nel senso genetico ed è così la vostra forza è quella del fascino è quella della della magliatrice eccetera eccetera poi nei confronti del papà figuriamoci se ti immagini la mia io ho quattro figli tre maschi e questa è l'ultima quindi ha tre papà perché il più grande è ormai da 86 questa qua non la fa la principessa fa la regina e quindi io sono completamente rovinato amen detto questo che quindi non lo dico per rabbia ma con giubile vai cioè chi riesce comunque ad essere in un gruppo a utilizzare una comunicazione giudicante e perché a questo punto ha anche esso cioè proprio le fa parte proprio come sistema interno quindi forse l'intervento andrebbe fatto su una persona e questo è indicativo cioè noi quando ci accorgiamo di qualcuno per far questo possiamo allora ci sono diversi tipi di qualcosa cioè su una singola persona in alcuni gruppi io per esempio mi sono resa conto che a volte i giudizi sono diciamo si comunica con un livello giudicante e quindi mi accorgo che avendo a quattro occhi con quella persona un dialogo mi accorgo che è un suo un suo modo di parlare tipo le mie colpe le mie ci sono varie tipologie di persone questo è una alcune persone sono estremamente severe con gli altri è la casa editrice un libro anche se i professori devono scrivere libri è normale però è un piccolo parto quindi mi stanno dietro per la copertina ieri sera ero stanco non ho voglia di rispondere quindi la colpa è mia che non mi sono messo ora dopo pausa pranzo telefono eh ti do riferimenti volentieri certo si cara sono su facebook sono su facebook sono su facebook voi chiedere amicizia vabbè ok accordato e vi sono appunto intanto la premessa dell'inizio della nostra lezione era uno può tirar fuori quello che c'ha quindi io ti posso dare 1000 euro se ne ho 2000 o almeno 1100 o 1500 o 1002 ma ce la devo avere quindi questa è una regola però non è sempre vero vi sono varie caratteristiche di personalità parlando di personalità si intende un tratto stabile geneticamente in parte predeterminato e modellato dall'ambiente quindi il colore dei tuoi capelli o dei tuoi occhi è determinato dalla genetica oppure il fatto che io perda i capelli è determinato dalla genetica che è alquanto bizzarra perché non le leggi della genetica non sono deterministiche e univoche no vi ho fatto l'esempio dei capelli io assomiglio a mio padre sono pelato la figlia di mio padre sono bellissime perché il primo è biondo riccioluto il secondo è mio padre nero se ha capelli il terzo è biondo a vent'anni non aveva più un capello infatti il mio cugino è uguale il terzo è biondo con tutti i capelli e il quarto nero con tutti i capelli quindi uno sino nonno uno bianco uno chiaro uno scuro uno chiaro uno scuro tutti i figli tutti i figli e lo stesso padre non era un Klinefelter è mio nonno visto la storiella che vi ho detto ieri si assomigliano tutti quindi le leggi della genetica sono chiare ma non sono così univoche già la genetica a livello dei tratti delle caratteristiche individuali vi è una predisposizione genetica per cui il linguaggio tu sei predisposto geneticamente a parlare ma se non vieni stimolata entro i due anni e mezzo tre perdi questa possibilità non parlerai mai più quindi tu sei predisposto a una certa caratteristica essere più caldo aperto più freddo o altre cose ma poi è l'ambiente le stimolazioni che trovi che possono far uscire e modellare questo aspetto per cui Dino può essere una persona che ha un condizionamento genetico essere chiuso ritroso introverso trova un ambiente estremamente stimolante e si scioglie un po' Fabio al contrario è una persona che tendenzialmente sarebbe aperta a cordiale ma trova un ambiente che lo contiene ed ecco che loro due hanno uno stesso tipo di manifestazione a 30 anni delle loro caratteristiche pur essendo partiti da un patrimonio genetico diverso ovviamente questo è un esempio l'ambiente quindi modella moltissimo e noi abbiamo siamo le bestie più intelligenti per questa capacità di amalgama dei fattori genetici e ambientali lasciamo stare le tare genetiche malattie genetiche o altre cose un appunto che può essere un appendice che può essere utile per chi lavora in campo sanitario attenzione che vi è un misandestenne un frainteso tra il termine familiarità e genetica disturbo genetico è il Klinefelter la sindrome di Turner la sindrome di Down o altre ma non la depressione non la cardiopatia non il tumore vi è un rischio l'ipercostalismo è un rischio ma è un rischio no è genetico nel senso che vi è una possibilità maggiore se facciamo Rita no che c'ha la mamma la zia la sorella e tutto il resto che hanno avuto un cancro al seno le viene il cancro al seno ma l'amica ha detto lei se è una persona intelligente andrà più spesso delle persone della sua età a fare un controllo perché vi sono delle possibilità ma la depressione non è genetica si scrive bisogna scrivere familiarità per depressione quindi c'è un rischio depressivo ma attenzione anche su questo anche agli esperti o agli pseudo esperti psicologi perché gli studi sull'argomento dicono delle cose che vanno sapute leggere anche gli studi sui gemelli hanno fatto vedere che i figli di coppie di depressi sono meno a rischio dei gemelli di zigoti quindi dei fratelli gemelli e il rischio maggiore per i fratelli i monozigoti quindi rischio maggiore per i monozigoti gemelli identici poi subito dopo ci sono i gemelli non identici poi ci sono i fratelli normali ora io voglio che un bravo psicologo mi interpreti queste cose uno scrive sul cellulare qui dov'è un altro tu non fai la scuola di psicoterapia la specialista di psicologia clinica chiedi allora interpretami questo dato non mi aiuti perché c'è questa differenzazione gemelli 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 di zigoti e fratelli perché c'è questa differenza ma la differenza tra il gruppo 1 e il gruppo 3 con le nasce cioè il gemello identico ha un rischio maggiore del gemello fratelli e all'ultimo posto per i rischi sono fratelli perché c'è questa differenza perché il fratello il gemello di rote lo stesso ambiente ma questo lo sappiamo ma allora secondo me lo stesso ambiente hanno ambienti diversi perché sviluppano le sue differenze tutto bene ma tanto venire che si crea le persone qui è tutto prenatale allora si 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 monozigoti sono quelli identici queste sono le statistiche non aggiornatissime quindi c'è un 60 40 27 dove è la differenza? no è il fatto che questi due qua che sono altre cose più vicini vivono la situazione depressiva genitoriale insieme questi qua li vivono in situazioni diverse uno ha otto anni quell'altro ne ha due e non è detto che la situazione depressiva pur essendo figli di due persone depresse sia la stessa quindi ecco perché i gemelli di zigoti e i gemelli monozigoti sono molto vicini perché hanno certamente una familiarità ma vivono un ambiente depressogeno che crea depressione per quanto tu possa essere curato lo vivono nello stesso momento e questa la lettura perdonami questa ora io non me la ricordo per bene ma questa differenza non è imputabile se non alla manifestazione genica ok quindi qui abbiamo un patrimonio genetico assolutamente identico e quindi vi è un'ulteriore possibilità di influenza a livello comportamentale perché non è che lo fanno alla nascita questo lo fanno dopo vent'anni quindi i gemelli monozigoti hanno un patrimonio assolutamente identico quindi con possibilità quindi di sviluppo anche a livello comportamentale di identiche risposte non solo ma vi è una possibilità di clonazione nel senso che uno copia l'altro quindi attenzione al peso perché questo lo dico perché delle volte nell'ambiente anche del rieducazione o comunque nei centri per o nelle comunità si fanno delle famose pseudodiagnose vedi c'è un rischio no è chiaro che se la mamma è tossicodipendente il papà è tossicodipendente no oppure esatto così come spesso il tossicodipendente è figlio del medico dell'avvocato di turno e che non hanno mai nemmeno fumato una sigaretta eh lo so però ti si pensa tutto il resto no no l'hai detto tu e da ieri che ce lo dici noi ci crediamo no non è detto no perché sennò ti veniva anche qualcos'altro no va bene così ti amiamo tutti tranquillo allora tornando allunque queste premesse che ci hanno coperto un sacco di tempo però sono importanti a mio avviso sono importanti per creare le basi e non fermarci alla teoria della comunicazione che pure è importante perché vedete eh i fenomeni sociali tra cui ho citato gli stereotipi e i pregiudizi si originano nel corso di interazioni fra persone nei gruppi quindi vi è un processo dinamico e circolare che richiede la condivisione di alcuni codici nonché di segnali non verbale penso che sia abbastanza chiaro lo traduciamo comunque stereotipi e pregiudizi l'ho citato un attimino prima esagerando sono partito dal Burga e sono arrivato al cuore dell'antropofago il pregiudizio o lo stereotipo è un qualcosa che un certo tipo di comunicazione sociale che si chiama media o media come volete ci dà lo stereotipo è l'uomo che non deve chiedere mai e altri stereotipi sono la donna di successo io ricordo l'angelo della casa e su questo potremmo parlare a lungo io sull'espresso di qualche forse anno fa sono rimasto atterrito dal livello di comunicazione che dava questa immagine c'era una chiarissima bella donna in taillère grigio china su un angolo della strada sul marciapiede con il telefono e il notebook sulle gambe la donna di successo era appoggiata a un bellissimo palaccio di vetro meraviglioso tipo New York o Chicago queste cose qua guarda questa poveraccia che si ritrova per strada un fallaccattone vestita bene un tocco di figliola che non finisce mai è pure l'immagine del successo ed è esattamente questo che succede riflessione per voi di sesso femminile perché rischiate molto moltissimo che vi ritrovate a fare le tuttologhe ora le donne sono le donne più importanti nel mondo la Merck la Bear Merck come? non lo leggono le donne se lei nota tutta la pubblicità che c'è nell'espresso tutta la pubblicità destinata alla Italia è una comunicazione e non c'è parità se chi lo volete fare vuole cercare chi? donna no prima l'espresso è largo e ho avuto questa lezione quando ci fanno un corso sull'immagine della pubblicità di generale la parità è un dato che mi piacciono tutta la pubblicità maschile giusto che a me neanche ci vogliono scelere questi perché il loro prebjudizio è nell'editore tanto le donne non è come l'espresso e quella comunicazione questa immagine non è la direzza al pubblico femminile ma è la direzza al pubblico maschile ma se è che non è rimasto il senso negativissimo qui manca la parità di genere dove diventare anche la comunicazione per le donne che può essere anche la pubblicità non è quella che è con lei che è quello che vogliamo dire ma infatti trovano questo pregiudizio il nostro portale non è è molto importante nella comunicazione avere chiaro il ruolo ed è qui che casca l'asino perché il ruolo preteso il mio non è detto che sia accettato da tutti ora è accettato perché interagendo con me mi confermate nel mio ruolo il guardarmi la sentire il farmi domande l'avere dubbi o manifestare anche una critica mi conferma mi conferma nel mio ruolo ok non è che me lo dà o me lo leva me lo conferma ma non è sempre così facile il mio ruolo è dato lei mi ha chiamato da una ex allieva ha chiamato il professore se lei è la mia paziente il ruolo è dato io devo attivare una comunicazione ma il ruolo è dato è più facile perché lei si appoggia a me perché io sono lì apposta e sono il suo servo perché lei mi paga quindi sono al suo servizio quindi sono accogliente attento eccetera a tempo quindi sono mercenario ma sono lì per lei il ruolo è dato ma è di molto diverso se invece ci vediamo fuori a passeggio prima di iniziare a parlare di dire ma capire che ruolo abbiamo ok questa è la presupposizione sbagliata che spesso abbiamo invece le persone vanno in un gruppo perché si sentono sole perché non sanno dove andare perché pensano di fare del bene perché c'è Giovanni che gli piace tanto perché le idee sono o pensano di avere le stesse idee oppure cercano delle idee perché pensano di non averle capito è proprio questo tipo di presupposto che fa di un gruppo un pessimo gruppo per cui le persone sono come diceva Aldo l'altra notte delle isole le persone sono delle isole e io cercavo di spiegarlo ma è impossibile parlare con Aldo perché parla lui e dicevo guarda che le persone sono isole e c'è qualcosa o qualcuno che deve fare da ponte no no devono stare anche dove sono devi devi creare un collegamento capito è chiaro che se sono uno in Nuova Zelanda e uno in Sicilia il ponte è un po' complicato però è chiaro che per esempio se siamo qua in un'altra situazione qualche vicinanza c'è vicinanza poi vanno creato dei ponti e la comunicazione è proprio questa e come c'è scritto in diapositiva però bisogna stare attenti che vi sono pregiudizi stereotipi e un codice che deve essere condiviso non basta il linguaggio perché il linguaggio la lingua italiana è molto ricca ma poi dipende come viene utilizzata anche se io sono una zona della Toscana del nord al confine con Emilia e Liguria è noto che i toscani sono un pochino irriverenti per cui quando parli con uno del sud o uno del nord sono tutti attenti o mi prenderei in giro cosa dirà o devo evitare di fare battute perché vengono prese sul serio uno si potrebbe offendere eppure il linguaggio è lo stesso però ripeto intanto lei che c'è stata la Toscana non è così univoca come si pensa perché i fiorentini parlano parlano l'italiano i fiorentini parlano una roba incomprensibile beh non li capisco io figurati c'è un linguaggio un dialetto a seconda dei posti esattamente come qua è stato scelto e c'erano lingue diverse a un certo punto qualcuno ha detto il dialetto della Toscana diventa la lingua che non è il dialetto di per sé si diceva ieri con qualcuno nella seconda metà dell'anni 50 quando venne fuori la televisione e misero le apparecchi televisivi in Sicilia i siciliani dicevano ma che lingua parla quel tizio lì al telegiornale giustamente come cerco di spiegare agli americani guardate che l'Italia è uno dei più giovani paesi del mondo tutti pensano all'Italia e ai romani ma gli americani mi hanno spiegato guarda che siamo un United Country da 150 anni che è ieri l'altro e a livello di testa non lo siamo ancora come esempio quindi non è il dialetto che è già un problema ma è il modo di utilizzare il linguaggio tant'è che in Veneto e in Toscana per esempio bestemmiano ma bestemmiano di brutto poi anche qui a seconda dei posti se vai nell'area di Livorno ecco c'è un retaggio popolar comunista perché è nato il partito comunista che è particolare al punto da in termini psicologici avere una gratificazione cioè più sei grezzo più sei pesante più sei ignorante più sei accettato vi racconto un episodio vero accaduto a sud di Livorno molti anni fa sud di Livorno ci sono delle bellissime scogliere diciamo molto belle un bellissimo mare e ero lì con una giovane fanciulla al tempo esraiato esraiato su un bello scoglio piatto arrivano due giovincelli come? stavo tentando di conoscerla l'avevo già conosciuta però insistivo voce del verbo insistire vabbè ero là steso su questa cosa arrivano due ragazzini ma ragazzini 17 anni 16 anni che si appartano si appartano tranquillamente dietro praticamente c'erano altri scogli e un pochino di siepi voce della fanciulla molto carina in Livornese Tony, Giovanni, Francesco oggi Nisba e Shore Ketchup in Livornese puro sapete cos'è il ketchup cosa vera perché l'ho sentita con i miei orecchi io penso che io la ricordo come la cosa più triviale che abbia mai sentito nella mia vita questo secondo me è cattolastico non so immaginarlo peggio ecco ora spero che questa registrazione verrà tagliata per dare un'idea del quello che le psicologi chiamano il rinforzo positivo cioè la gratificazione della pesantezza non so come dire la volgarità perché queste erano persone normalissime non è che erano capito sicuramente ecco questa è una zona appunto popolare c'è il Porto e tutto il resto ma vi è questo tipo di atteggiamento che c'è poi vabbè c'è l'area pisano altre cose come vi sarà il campanilismo vi è il campanilismo qua però ecco l'utilizzo del linguaggio vi ho fatto questo esempio pesante perché viareggio dove abito io saranno 50 km sono pesanti certo però c'è un utilizzo del linguaggio che è tipico tant'è che viene considerata un'area così come a Firenze parlano giustamente Fiorentino Prato sono accolienti e solidenti moltissimo in questo senso il carattere aperto è io non 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 comunque il mio non era per esprimere giudizi è chiaro che questo era soltanto per spiegare come il linguaggio può essere adoperato in un certo modo a secondo delle abitudini del posto puoi così parlare a voce più alta puoi parlare a voce più bassa puoi scandirlo con imprecazioni improperie o altre cose oppure no e non è che questo dipende necessariamente da un fattore educativo perché le stesse persone che parlano in un certo modo possono per esempio essere anche religiose o addirittura essere dello stesso entourage ma non è detto che se questa ragazza era dell'arce di Livorno all'arce di Taranto o poi avevano per forza parlare in quel modo ora o io ho fatto questo esempio veramente non mi far finire è troppo pesante fammi finire un secondo un secondo un secondo poi finiamo il il punto chiudiamo questo aspetto poi arriviamo al linguaggio non verbale quindi non vi è soltanto un qualcosa che riguarda la stratificazione sociale ovvero la ricchezza del linguaggio cioè lei è laureata in lettere in filosofia e avrà una padronanza avendo fatto liceo classica eccetera del linguaggio particolare teorica perché poi questo ha a che fare con la sua personalità se è molto aperta ed estroversa utilizzerà il linguaggio molto in maniera affiorita se invece è introversa un po' chiusa avrà difficoltà a attingere a questo bellissimo deposito che ha di possibilità linguistiche se lei ha fatto l'istituto professionale per l'industria sarà saprà accomodare qualsiasi cosa di meccanico ma non avrà un grandissimo linguaggio questo è quello che si dice normalmente ma accanto a questo vi è un fenomeno sociale e culturale che è quello che cercavo di spiegare io e che è diffuso un po' in tutto il mondo io ho fatto l'esempio vicino a casa mia o qua però vi sono degli usi e costumi che influenzano il linguaggio oltre questi fattori che si aggiungono e si intersecano con questi fattori che ho citato prima il codice brava quindi il codice linguistico codice astratto che è già estremamente povero per esprimere in particolare le emozioni può avere queste enormi fluttuazioni e essere influenzato da questi aspetti che ho cercato di descrivere e che vengono da una serie di stimolazioni condizionamenti ambientali che possono essere notevoli e che vanno presi in considerazione prima di se c'è la necessità di creare un gruppo perché se no si rischia di immediatamente toppare fermarsi davanti a una difficoltà e rimanere flussuati perché invece le aspettative sono quelle che diceva lui prima e gli diceva no siamo qua per questo motivo quindi siamo un tutt'uno ok via per il caffè grazie a tutti Grazie a tutti